Ma ciao! Ciao a tutti, sono Sissi, benvenuti in questo nuovo video che è un po' un ibrido di video perché abbiamo clip di vlog, abbiamo aggiornamenti, abbiamo assaggi da fare, abbiamo un haul perché voi pensate che io non sono andata ad action in questi giorni che non ci siamo sentiti di festa? Assolutamente no! Quindi c'è un sacco di roba da vedere e quindi stiamo un po' insieme oggi, questo pomeriggio e quindi sarà un ibrido di video. Allora, innanzitutto incominciamo con la propaganda canale perché è da un po' che non la faccio la propaganda canale, perciò se siete qui e non siete ancora iscritti vi chiedo di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere con il canale appunto e per non perdervi i miei prossimi contenuti di lasciarmi un like di supporto e di sentirci qua sotto nei commenti fatemi sapere come sono andate le vostre vacanze di Pasqua Pasqua è appena finita e devo dire la verità che io sono molto felice perché ho passato proprio una bella Pasqua come al solito sono andata sia a Pasqua che a Pasquetta a mangiare dalle mie nonne un giorno da una, un giorno da un'altra però sono riuscita a passare anche tanto tempo poi con gli amici al pomeriggio e quindi sono stata con tutti quanti e sono veramente felice delle mie vacanze di Pasqua e delle mie vacanzine di Pasqua se si possono chiamare vacanze perché non abbiamo fatto niente di che però secondo me stare in compagnia è sempre è sempre bello è sempre bello e purtroppo il tempo qua in Lombardia non era dei migliori ma oggi c'è una luce pazzesca c'è un bel sole per fortuna e quindi e quindi niente tutto bene quel che finisce bene speriamo che il tempo regga e niente quindi ho passato una bellissima Pasqua a differenza del Natale che eravamo un po' tutti malati e quindi non si è potuto fare un granché Pasqua sono stata appunto circondata da famiglia e amici ed è stato molto bello ho visto che avete visto il video dove ho scartato le uova di Pasqua con Raul ormai è diventato un momento annuale insomma una ricorrenza annuale quest'anno però non so se vi siete accorti ma non ho potuto non ho fatto il la card la card di auguri di Pasqua perché io di solito a Pasqua e a Natale faccio la card di auguri con Raul solo che mi piace magari andare che ne so in campo di fiori fargli le foto eccetera c'è ha tipo piovuto per un mese e non sono riuscita a scattare delle belle foto a Raul per fare la card però non fa niente secondo me non se ne è accorto quasi nessuno quest'anno che la card non c'era e quindi niente quindi questo è stata la mia Pasqua molto 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 bella ho mangiato un sacco di cose buonissime tra l'altro e quindi sono veramente soddisfatta e poi che altro successo in questi giorni c'è un update su Carlone perché sta speriamo incrociamo le dita che stia arrivando veramente la primavera e Carlone l'abbiamo messo nella sua nuova casa l'abbiamo rinvasato e quindi è pronto poi nei prossimi giorni se il tempo regge che non piove non fa acquazzoni eccetera è pronto per uscire a fare la sua stagione primavera estate di fuori e quindi vi mando vi lascio la clip adesso del rinvaso di Carlone non ho fatto un vlog di tutta la giornata ma vi lascio la clip appunto del rinvaso via con la clip mi sento una giornalista allora stiamo per rinvasare Carlone praticamente siamo quasi ad aprile ed è ora di rinvasarlo ve lo faccio vedere vi faccio vedere la crescita intanto vi faccio vedere quanti fiori che sta mettendo poi speriamo che da lì ci nascano dei limoncini e poi vi faccio vedere la crescita esagerata che ha fatto negli ultimi giorni cioè guardate qua che foglie cioè sono gigantesche queste foglie guardate con la mia mano e quindi adesso lo rinvasiamo queste sono tutte foglie nuove ha cacciato un sacco di rami lunghi con le foglie adesso lo rinvasiamo e lo mettiamo sempre in un vaso giallo un po' più grande e vi faccio vedere tutto il procedimento allora ci hanno spiegato che prima bisogna mettere un pochino di argilla e quindi noi abbiamo preso questa sulla base sul fondo del del vaso eccola qui la nostra argilla la terra che ci hanno consigliato è questo un terriccio professionale per agrumi e adesso faremo uno strato di terra e poi ci dobbiamo mettere anche i lupini come fertilizzante naturale per chi si è perso il blog dove abbiamo comprato tutte queste cose questi sono i lupini che ci hanno consigliato appunto lupini macinati terreno più fertile per appunto gli agrumi infatti c'è un bel limone qua sulla copertina purtroppo abbiamo dovuto tagliare il vaso perché non c'era modo di farlo uscire carlone urca guarda le radici wow nella sua nuova casa il suo nuovo vaso e adesso lo riempiamo eccolo qui carlone rinvasato nel suo nuovo vaso l'abbiamo anche bagnato e quindi è a posto e adesso lo lasciamo in pace per un po' fino a quando non dovrà uscire fuori bene adesso che avete visto carlone in tutta la sua bellezza nel suo nuovo vaso partiamo e vi faccio vedere un po' di novità del periodo perché che cosa ho trovato ho trovato al supermercato questi che sono gli straccetti planted che se mi seguite da un pochino avete visto che li ho mangiati nella piadina nella piadina kebab appunto del flower burger appunto loro usano gli straccetti planted e anche nella piadina che ha fatto in collaborazione con planted la piadina vegetale vegetariana la piadineria quindi li abbiamo visti nei video recenti e sono riuscita a trovarli anche al supermercato perché la mia amica vale li trova sempre in svizzera e mi ha detto forse forse all'iper li vendono quindi io sono andata all'iper e li ho trovati e questa è la seconda volta che li prendo perché la prima volta che li ho presi è stata appunto qualche qualche giorno fa qualche settimana fa e vi ho fatto anche una clip che poi vi manderò comunque ve li faccio vedere io adesso li ho provati nella versione kebab che sono quelli della clip che vi manderò che così li vedete bene nel dettaglio e ora li ho presi nella versione spicy esistono varie versioni di questi straccetti vegetali sono fatti con le proteine di pisello per gli amici e le amiche vegetariani ne ascolto sono fatti di con la proteina del pisello quindi non c'è soia e ne esistono varie versioni c'è la versione kebab che è quella che avevo già provato la versione questa spicy e c'è un'altra versione che si chiama mediterranea che mi manca da assaggiare ma sono veramente fantastici cioè anche per me che io non sono una vegetariana vegana ok io sono onnivora mangio tutto però ogni tanto di carne cerco cerco di limitare comunque un po l'assunzione di carne un paio di volte due massimo tre volte contando anche il prosciutto tre volte alla settimana ok però cerco di limitare un po i miei passi di carne e mi piace assaggiare le alternative vegetali appunto vegetali vegetariane alternative varie piuttosto che mangiare il legume proprio legume legume che ne so i ceci o eccetera mi piace provare che ne so i burger vegetali eccetera e quindi quando ho assaggiato i planted sia nel flower burger sia nel nella piadina della piadineria mi sono piaciuti e ho detto cavoli io li prendo e li assaggio questi sono quelli spicy tra l'altro hanno qua anche l'indicazione del di quanto sono spicy ed è uno su tre quindi in teoria dovrebbero essere spicy però non non troppo e non vedo l'ora sinceramente di mangiarli la prima volta che li ho mangiati come vedrete oddio come vedrete tra poco li ho mangiati con il riso basmati questi penso di farmeli con la piadina visto che ho delle piadine aperte in frigo penso di farmeli con la piadina e adesso appunto ve li faccio vedere nel dettaglio perché ve li faccio vedere quando li ho cucinati via con la seconda clip per tutti gli amici vegani e vegetariani all'ascolto sono riuscita a trovare gli straccetti planted all'ipermercato quindi al supermercato iper e questi mi erano particolarmente piaciuti nella piadina del flower burger che abbiamo fatto il mukbang del veganuary piadina del flower burger e li avevamo anche assaggiati nella piadina di la piadineria e sono riuscita a trovarli all'ipermercato ci sono varie versioni e io ho preso la versione kebab adesso ve lo faccio vedere così nella scatola e poi sto cucinando del riso basmati integrali adesso questi li scaldo in padella come dice le istruzioni questi veramente sono vegetali sono fatti con le proteine del pisello però in realtà cioè io nella piadina del flower burger sembrava veramente pollo cioè sono un'ottimissima alternativa per chi è vegano o comunque vegetariano e vi faccio vedere anche le istruzioni così di dietro se volete fare pausa e vedere che cosa c'è dentro come si come si preparano eccetera ora li vado a cucinare in padella e poi li metterò sopra il mio riso basmati me li mangio tutti ed ecco qui il piatto pronto riso basmato integrale io ci ho messo anche un po di cipolla dentro quando l'ho cotto insieme e gli straccetti planted che ragazzi sono pazzeschi io alla vista sia alla vista che alla consistenza e che al gusto cioè non si direbbe che sono vegetali cioè sono veramente qualcosa di di fantastico e lo dico da persona univora è da non vegana non vegetariana sono veramente pazzeschi cioè come qualità è la il preparato vegetale più buono che abbia mai mangiato fatti fatti molto molto bene bene quindi in questi in questo periodo ho collezionato clip da farvi vedere però ce n'è ancora una che vi voglio far vedere perché io in realtà ho registrato un video che ho deciso di non mandare in onda perché era veramente c'è pioveva e c'era fuori un'acquazione un'acquazione pazzesco la luce era veramente molto molto cupo avevo il faretto e sinceramente stavamo parlando anche di un argomento che poi lo voglio anche trattare però mi sembra mi sembrava un po troppo cupo ho fatto un po la lamentina e quindi ho detto è meglio non mandarlo in onda questo video e vi facevo vedere appunto inizio a inizio video prima di parlare di questo argomento abbastanza importante che mi ha fatto anche un po arrabbiare vi facevo vedere le unghie perché ho fatto le unghie le unghie per pasqua avete avete visto che ho fatto il glow up ho fatto la tinta ai capelli che tra l'altro questo colore mi sta mi sta piacendo sempre di più fatto la tinta ai capelli ho fatto anche le unghie per pasqua e vi facevo vedere appunto questo colore che è il veronica di imena nails l'avevo già fatto anche in passato quindi non ho fatto il contenuto short perché ve l'avevo già fatto vedere è il veronica di imena nails e in questa clip che vi mando adesso si vede come riflette con il faretto cioè voi adesso vedete così lo vedete così alla luce naturale e già riflette di brutto ok però adesso vi mando la clip vista so viste sotto il faretto e sono pazzesche ragazzi se mi piace brillare cioè io con queste brillo di luce brillo di luce propria ok brillo ancora di più e ve le mando adesso unghie di pasqua che ho fatto con il faretto riflettente quanto riflettono questo è il colore veronica di imena nails e se lo volete provare se volete provare i prodotti di imena nails trovate qui nell'info box dove andare a reperirli e il mio codicino sconto cioè questo è il colore veronica è pazzesco l'ho fatto per pasqua perché voi mi avete chiesto di fare il lilla cioè mi avete dato il suggerimento di fare le unghie lilla io le volevo glitter e quindi ho detto lilla e glitter perfetto veronica e sono pazzesche ho cambiato un pochino la forma le ho tenute un po quadrate tanto di mezzo anche l'ultima clip possiamo andare con live io e voi live perché perché sono andata da action e e niente praticamente ho fatto shopping ho fatto shopping ho preso un bel po di cose e comincio a farvi vedere questo che perché l'ho tirato fuori dalla scatola e ho cercato di rimetterlo dentro e non lo non si chiude più la scatola benissimo però ci devo ci devo lo devo provare ci devo giocare con questa cosa perché ho trovato da action appunto ad un prezzo folle 13 euro e qualcosa ho trovato questo stand per il telefono ok per appunto fare i contenuti per fare i contenuti e questo ha una foto cellula che vi segue e quindi volevo un pochino giocarci e vedere appunto un po se posso incorporarlo nei miei contenuti adesso ve lo faccio vedere poi ci sbarazziamo pure della scatola allora praticamente è non è a pile che è già una buonissima cosa è ricaricabile con la corrente abbiamo il nostro cavo c usb ok ha la sua piantana ok perfetto se riesco a metterlo sì ok con appunto lo stabilizzatore così e qui ci potete mettere il telefono e si può fare appunto riprese sia in verticale che in orizzontale orizzontale così lo mettete per così verticale è così quindi se fate video su anche su instagram tiktok eccetera che dovete tenere lo schermo in verticale è appunto ottimo io volevo appunto accenderlo perché è un pochino carico e farvi vedere come funziona ok è acceso vedete che gira ok ciao ecco come non detto perché si è accesa la luce rossa probabilmente scarico però appunto qui c'è una specie di telecamerina ok c'è l'occhio del grande fratello che vi segue in teoria vi segue quindi vorrei appunto giocarci e provarlo se lo spengo perché va caricato vorrei appunto giocarci e provarlo per vedere appunto se lo posso usare anche solo c'è anche secondo me anche solo come come supporto ok per il telefono per filmare a una bella ha una bellissima piantana e mi sembra abbastanza abbastanza stabile perché qua con questo tre piedi qua mi dà sempre l'idea che siamo sempre tutti storti e quindi vorrei iniziare a utilizzare questo benissimo poi andiamo avanti perché se no non finiamo più visto che forse sta arrivando la primavera ho preso un cappellino per andare a camminare ed è questo bellissimo cappellino da action vedete che ha un po questa trama militare ma è tutto su nero nero su nero ok cambia un po la texture del cappellino ed è appunto fatto così adesso ve lo metto ve lo faccio vedere wow sì sì come sei fashion pazzesca e questo ragazzi è un cappellino per bambini però mi sta mi sta benissimo tra l'altro perché tra l'altro ho anche la chiusura vedete come ho chiuso la chiusura cioè perfetta l'ho chiusa perfettamente senza metterla troppo allargata o troppo stretta è chiusa perfettamente e mi sta adesso tiro dentro le orecchie perché se no sembro un elfetto nero su nero avrei potuto scegliere un altro colore perché quando picchia il sole sul nero picchia ok fa calore però voglio dire io sono sempre quasi sempre vestita di nero o di grigio o di scuro e poi mi piace mi piacciono un po tutte le trame militari animalie voi mi conoscete e questo appunto l'ho preso anche lui da action veramente molto 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 carino questo cappellino è da bambino ma noi sinceramente non ce ne prega niente poi andiamo avanti e andiamo avanti con due cose che sono uguali ho preso visto che io comunque ce lo vedete con i miei acquisti che io sono già proiettata all'estate hanno messo delle cavigliere hanno messo delle cavigliere che adesso faccio cadere tutto ovviamente cavigliere anklet anklet vuol dire cavigliera e queste sono in acciaio stainless steel adesso se io riesco a tirarne fuori a tirarle fuori ve le faccio vedere e appunto io non sinceramente non vedo l'ora di metterle ne ho preso le ho prese due perché c'erano di vari modelli e e li volevo li volevo tutti praticamente non sapevo decidere quindi il prezzo era talmente risorio che penso sui due euro tre euro ce l'ho lo scontrino è ce l'ho lo scontrino allora eccola qui questa cavigliera bellissima con questa trama a maglia che abbiamo visto le collane collane braccialetti di questa trama la cavigliera sinceramente non l'avevo ancora vista è una trama che sta andando molto di moda questa e non c'era argentata perché sennò sinceramente l'avrei presa argentata adesso devo provarle perché sono tutte e due dorate le devo provare per vedere come mi sento perché di solito io sui piedi porto l'argento e quindi vediamo vediamo come va vediamo come vanno però erano troppo belle per lasciarle lì e quindi una è questa molto semplice semplicissima e l'altra vi faccio vedere a questo punto anche l'altra perché tanto adesso le tiriamo fuori in qualche maniera l'altra ha un pochino la la maglia un po più larga quindi adesso quando io smetterò di mettermi le mie scarpe chiuse e farà abbastanza caldo per andare in giro con le birkenstock io vado di cavigliera perché non metto più i calzini non metto più niente e vado appunto di cavigliera questa ha la trama appunto un po più grossa e ha anche delle perline attaccate ve lo faccio vedere appunto su sfondo nero che si vede molto bene guardate che carina che è anche questa molto un po un po troppo femminile forse per me ok che sono sempre vestita un pochino da maschiaccino però molto molto carina sul mio piedino e quindi le ho prese appunto tutte e due perché non sapevo decidermi e di solito quando non si sa non si riesce a decidersi la cosa da fare è prenderle tutti e quindi questo ho fatto poi andiamo avanti sempre con un doppio prodotto perché l'ho preso tutte e due stesso prodotto ma in colorazioni differenti questo è un glitter lip balm e adesso li apriamo e li andiamo a swatchare uno è più sui toni del viola e l'altro appunto è un po sui toni del rosa allora io sul gruppo di facebook di action ho visto varie recensioni dove dicevano si belli tutto quanto packaging molto molto cheap però d'altronde costano non lo so tipo un euro e mezzo due euro packaging appunto molto cheap rossetti fantastici a vederli perché sono veramente bellissimi ok però non c'è lip balm idratanti ma non lasciano giù i brillantini adesso li andiamo a provare insieme per vedere se è vero perché noi siamo come san tommaso se non vediamo non crediamo allora fatemi tirare un po dentro prima di fare qualche cavolata questo colorosa beh i brillantini si vedono raga ah beh in camera non non fa effetto come dal vivo però si vedono è abbastanza metallico e anche una puntina di rosa profumo non odora di nulla cioè nel senso non ha un odore forte o dolce mi aspettavo un tipo un chewing gum un bubble gum vediamo questo qui viola ne esiste anche uno bronzo sull'arancio però ho detto no anche questo cioè guardate com'è cromatico pazzesco molto molto bello perché non va a fuoco proviamo anche questo poi magari in un prossimo questo si vedono ancora di più i brillantini magari in un prossimo video li proviamo direttamente sulla bocca questo ovviamente quello più quello viola un po più freddo quell'altro un pochino più caldo però veramente molto 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 carini ora io sulle labbra ho il mio labello lipoil però anche questo zero profumo non vedo l'ora di provarli magari li proviamo insieme in uno dei prossimi video perciò rimanete sintonizzati rimanete qua non andate da nessuna parte poi molto velocemente cartopazza che non sono altro ho preso questo set di pastelli acquarellabili che dentro ha anche il pennello sono molto veramente molto molto carini perché sono nella loro scatolina cioè io li trovo molto ordinati e carini anche da portarsi per dire in viaggio o da qualche parte se volete colorare e sono appunto questi pastelli la marca che marca è artist creative artist sono 12 pastelli si sono 12 pastelli acquarellabili e hanno anche il pennello per l'acquarello quindi vi serve solo l'acqua poi esistono anche i pennelli quelli che hanno il serbatoio dell'acqua ok e dentro c'è anche una matita o è il nero non lo so perché questo vedete no è il nero che cavolata che sto dicendo si vede bene in camera dal vivo non si vede che c'è lo stacco di blu e nero lasciate perdere che sono fuori va bene ho già spaccato la punta 1 perché l'ho fatto cadere perfetto questi sono i 12 colori e il pennellino con la sua scatolina molto belli molto ordinati anche di questi ve li farò vedere ancora perché non mi sono dimenticata lo facciamo devo fare il video con tutti i miei libretti da colorare sia i mini color che tutti i libri che ho di adult coloring quindi tutti i libri di mandala da colorare e vi faccio vedere anche ovviamente tutti i pastelli pennarelli tutte le cose che uso per colorare quindi li rivedrete sicuramente in un altro video così anche quando se ho modo di provarli in questi giorni vi posso dire qualcosa di più poi ultima cosa da action ma è la più golosa e qua secondo me qualcuno salterà dalla sedia salterete dalla sedia quando li vedrete perché guardate che cosa ho trovato da action ho trovato i mac and cheese americani cioè ragazzi questi li assaggiamo eh li assaggiamo non sarà il mukbang perché non voglio fare un mukbang interamente dedicato ma magari sarà un video assaggi con i mac and cheese americani sicuramente li avete li avrete visti nei film nei video degli americani io sono sempre stata molto curiosa di sapere di cosa sapessero questi mac and cheese devo dire cioè sincera sincera non è che mi attirano molto però sono molto curiosa di vedere di che cosa sanno e appunto li abbiamo trovati ero con una mia amica che lei è venezuelana e ha vissuto tanti anni della sua vita in venezuela e mi diceva che là sono una cosa molto comune e lei li mangiava sempre e quindi quando li ha visti perché li ha visti lei li ha visti e ha detto oh che buoni i mac and cheese e io li prendo che nostalgia eccetera e quindi ho detto anch'io sono curiosa di assaggiarli ed è un'ottima idea per un prossimo video quindi in un prossimo video perciò iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché cioè vi vorrete mica perdere io che assaggio i mac and cheese così li assaggiamo non ho alte aspettative non è che mi attirino molto però li voglio assaggiare perché comunque sono ben quanti sono 206 grammi addirittura sono 200 grammi di pasta e qua bisogna capire adesso dentro quante bustine ci sono se si può farli porzionati o devo farli tutti perché qua io li qua sono sicura che li mangio solo io queste cose qua e va bene allora vi faccio vedere delle cose che mi ha portato la mia amica dalla germania e poi mangiamo è perché si mangia perché abbiamo la merenda da fare abemus anuta ok la mia amica vale in svizzera è riuscita a trovarmi gli anuta rigel e abemus anuta e quindi maniamo facciamo la merenda prima di andare perché io dopo quando finisco questo video c'è una cosa molto importante da fare con il camera dead che non posso dire niente per ora ma è una cosa molto molto importante quindi sono sono anche mi vedete che oggi sono esaltata perché dobbiamo andare a fare questa cosa qua che vi dirò poi in seguito ok adesso per ora non posso dire niente perché sono porta male porta male parlare delle cose prima che siano fatte e quindi e quindi niente quindi però dobbiamo andare a fare una cosa bella va bene allora mi ha portato la mia amica dalla germania che è venuta per il cosmo però fio quest'anno non ci sono andata al cosmo però spero di andarci magari l'anno prossimo però raga che costi perché c'è costa entrare costa stare là dormire c'è di andare e fare andata e ritorno in un giorno sinceramente non voglio quindi ho io mi sono informata e per andare sinceramente col fatto di essere content creator posso richiedere posso vedere se mi danno l'ingresso perlomeno un ingresso gratuito in qualità di content creator però non l'ho mai non ho mai provato per vedere se passo il test perché in realtà ci vogliono 10.000 almeno 10.000 iscritti tutto quanto quindi posso provarci per vedere se mi fanno passare però non ci ho mai provato e però appunto se devo andare voglio andare per almeno un paio di cioè per due giorni quindi una notte voglio stare là a dormire e ragazzi i costi soprattutto se vai in una persona sono abbastanza proibitivi quindi cioè costa tutto tra il biglietto e dormire la mangiare la eccetera quindi ho detto quest'anno poi quest'anno c'era anche in ballo la cosa della mia amica che ha partorito il bambino e tutto quanto quindi vi ho detto quest'anno salta sicuramente l'anno prossimo vediamo comunque questa mia amica dalla germania è venuta per il cosmo prof e mi ha portato i prodotti che mi piacciono allora vi avevo già fatto vedere che mi aveva portato uno scrub di questa marca sante che è un marchio naturale tedesco io non credo che si trovi in italia purtroppo però se voi sapete dove lo posso trovare in italia sicuramente si troverà online però se sapete qualche negozio che lo vende in italia magari con le deciture in italiano perché qua è scritto tutto in tedesco fatemi sapere la marca è questa sante ed è veramente molto molto buona io ho provato lo scrub che mi aveva portato l'altra volta mi sono innamorata c'è tutti gli scrub tedeschi sono fantastici che mi ha fatto provare e questa volta non ha trovato lo scrub purtroppo però mi ha portato due mi ha portato altri prodotti da provare mi ha portato appunto due gel gel lavaviso gel detergenti uno è all'aloe vera e semi di cia e per pelli normali questo mentre quell'altro è non so ai probiotici e a qualche bio inca inciol non so che olio sia ok e probiotici e questo per le pelli sensibili dovrei andare a vedere cosa vuol dire bio inca inciol se qualcuno sa il tedesco si faccia sentire qua sotto e poi sempre della stessa marca mi ha portato anche una crema viso ok e questa è allo ialuronico e paracresse cos'è paracresse paracresse con la k non lo so comunque è una crema per tutti i tipi di pelle ed è allo ialuronico ialuronic naturliches ialuron quindi ialuron acido ialuronico naturale e poi mi ha cioè troppe cose troppe cose joanna veramente grazie mi ha portato anche questa maschera di pure questo marchio che si chiama pure è una maschera ad idratazione intensiva per il viso qua c'è scritto per fortuna in inglese c'è scritto shia butter che è burro di karité olio di argan e marula oil cos'è il marula oil è l'olio di maracuja non lo so marula oil comunque c'è il marula il shi butter e l'argan oil anche questa non vedo l'ora di farla magari chissà mai che la facciamo insieme in un prossimo vlog va bene si magna facciamo merenda anche perché dopo io devo andare e devo mettere a posto tutto il casino che ho fatto perché c'ho cartone dappertutto carta cartone dappertutto e mangiamoci finalmente una nuta perché ci abbiamo abemus a nuta io in realtà li ho già assaggiati come vedete sono aperti ne ho già assaggiato uno in quel video appunto che non ho mandato in onda perché parlavo appunto di questo di questo argomento che mi ha incupito troppo e non voglio non voglio buttare fuori argomenti troppo cupi e quindi lo andiamo ad assaggiare adesso insieme cioè ad assaggiare lo vado a mangiare perché già l'ho assaggiato ed è buonissimo a me mi dispiace se c'è una ragazza in ascolto che mi aveva scritto su instagram che è andata in svizzera per cercare gli anuta e non li ha trovati mi dispiace tantissimo che non li hai trovati però mi ha detto la mia amica che li ha presi da müller può essere vale se sei in ascolto scrivici dove si possono trovare gli anuta in svizzera in italia non si trovano raga non si trovano peccato perché cioè devono vendere anche qua sono fantastici questi anuta purtroppo non mi ha trovato i vaferini quelli che avevamo mangiato nel calendario dell'avvento perché io cioè la nuta l'ho assaggiato nel calendario dell'avvento e mi sono innamorata non ha trovato i vaferini ma ha trovato questi rigel che sono le barrette io in realtà nel video che poi non è uscito l'ho comparato con i knopper con la barretta knopper che aveva dentro anche il caramello però raga secondo me la nuta non ha rivali anche se non ha dentro il caramello non ha rivali allora vi faccio vedere c'è il vafer la crema di nocciola la crema di latte un altro vaferino e poi il cioccolato e le noccioline sulla ricopertura di cioccolato secondo me la nuta vince a mani basse anche l'altra è molto buona anche knopper è molto buona molto golosa c'è dentro il caramello non lo so perché la nuta c'è una marcia in più forse il cioccolato va bene comunque adesso vi dico velocemente di cosa parlavo nel video che non ho messo in onda perché se non mi chiedessi non tenerci con i segreti adesso vogliamo sapere tutto era un argomento un po' cupo perché tra l'altro volevo mettere anche un titolo sensazionalistico no? per dire adesso ve lo posso dire ho rischiato di perdere tutto praticamente che cosa è successo? è successo che 90 giorni fa praticamente è successo un po' un casino con youtube e io ho rischiato di perdere il mio canale e appunto spiegavo le cose in questo video ma mi sono incupita perché per fortuna adesso è passata questa cosa perché youtube mi ha messo in castigo per 90 giorni diciamo che mi ha dato un'ammunizione mi ha dato un cartellino giallo ero osservata speciale per 90 giorni adesso per fortuna è passata questa cosa quindi sono fuori dal pericolo posso tirare un respiro di sollievo ma questa cosa mi aveva generato veramente tanta ansia cosa è successo in breve? allora sapete che youtube da un pochino da un po' di tempo da un annetto e più ha messo la possibilità di fare i video corti, gli short come i reels su instagram praticamente e io avevo iniziato a farli soprattutto per far vedere le unghie, fare qualche short ogni tanto perché comunque fare gli short ti permette di essere visibile anche ad un altro pubblico a un pubblico un po' più generico, più generale e quindi facevo contenuti per le unghie soprattutto cosa è successo? che in uno short che ho fatto io ho fatto un errore un errore che veramente l'ho fatto in buona fede un errore da ignorante nel senso da persona che ignora che cosa avevo fatto? io avevo messo una canzone di Lana Del Rey come sottofondo e si può fare, si può fare tranquillamente ma che cosa avevo fatto? io poi volevo farci sopra un voice over quindi volevo parlare sopra, quindi io ho fatto dei casini lì perché secondo me ho esportato il video, ho fatto sopra il voice over e l'ho riapploodato quindi l'ho ricaricato e in quello step probabilmente non ha preso la dicitura della canzone e quindi mi è arrivato un ammonimento per i copyright però mi è arrivato un ammonimento per i copyright severo che mi hanno detto il video te lo cancelliamo e poi mi hanno messo tra virgolette in castigo per 90 giorni e appunto se avessi fatto un altro errore in questi 90 giorni avrei potuto perdere il canale, tutto il lavoro che ho fatto eccetera e quindi diciamo che mi ha mandato un po' in crisi questa cosa io non ho parlato di niente di questa cosa però sinceramente mi aveva mandato un po' in crisi anche perché questa cosa non è che è successa subito quando io ho messo questo video quindi avevo molta paura che andassero a fare degli indagini su altri video che avevo fatto in passato e mi trovassero degli errori come hanno trovato quell'errore lì perché era uno short tipo di 9 mesi fa quindi ho detto cavoli mi stanno controllando le cose se io ho fatto un altro errore così in buona fede per esempio se ho fatto un altro errore così da ignorante in buona fede non sono spacciata ok quindi sono stata un po' come si dice sul ho camminato sui gusci di uova sugli eggshell per 90 giorni però adesso è scaduto il mio castigo il mio ammonimento è scaduto e posso tirare un respiro di sollievo quindi parlavo di questa cosa in questo video e mi sono incupita un po' sinceramente è anche giusto perché ragazzi mettetevi anche un pochino nei miei panni perché non è facile nel senso io lo so che se dovesse succedere qualcosa che mi chiudono il canale lo so che non è la fine del mondo posso ricominciare adesso con gli altri social eccetera ci possiamo mettere in contatto non è che mi perdo e dico ah sì sì aiuto ok però insomma ci ho messo tanto per arrivare a dove sono adesso anche se siamo a 2600 follower ok iscritti ci ho messo tantissimo ci ho messo tantissimo anche per ricevere la monetizzazione per fare due soldi veramente due perché non vi pensate non vi pensate è una cifra irrisoria ok però ci ho messo tanto ok perché comunque anche per essere per monetizzare ci vogliono 1000 iscritti 4000 ore di visualizzazione 4000 ore di visualizzazione sono tantissime ok ragazzi quindi cioè con tutto l'impegno che io metto che poi qua filmare fare questo è la parte più facile dopo dietro c'è tutto un lavoro c'è tipo l'editing che io cerco di tenere al minimo quindi vedete io non sono una persona professionale cerco di essere abbastanza terra terra reale cerco di fare clip abbastanza pulite dove non devo togliere troppo dove non devo editare troppo per risparmiare più tempo caricare bisogna esportare il video caricarlo cioè veramente quando vi dico questa è la parte più facile è perché è la parte più facile della cosa del lavoro e quindi quando ho visto che avrei potuto perdere tutto il lavoro che ho fatto in tutti questi anni mi è venuta un'ansia pazzesca sono stati 90 giorni abbastanza lunghi però li abbiamo superati adesso non so se avete visto ma ho cancellato praticamente tutti se andate negli short ho praticamente cancellato tutti o quasi tutti i contenuti delle unghie e anche contenuti dove c'era la musica sotto perché non voglio e gli ultimi contenuti sulle unghie che avevo fatto ho fatto io il voiceover dicendo oggi ho fatto questo colore di qua e di là senza mettere musica sotto perché ragazzi è un incubo con i copyright è un incubo mi sono caduto sotto praticamente ho detto va bene basta ok va bene noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti perché abbiamo tante cose da fare abbiamo il mac and cheese abbiamo i coloring book ci sarà il mukbang di aprile tante anticipazioni ho già dato in questo video sui prossimi contenuti perciò iscrivetevi se non l'avete ancora fatto lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti io vi bacio e vi ringrazio sempre per tutto il supporto e le parole carine che sempre mi dite e per il bene che mi date ciao